Ciao amici di Ciortini, per fortuna questa estate qui milanese sta finendo perché di estate non si parla, ma sto arrivando perché verrò a vedere lo Ciortini Film Festival ne ho bisogno ragazzi, quindi a breve sarò lì da voi e potrò vedere con i miei occhi la nuova versione 2014. Niente, che dire, bocca al lupo per adesso, poi ci vedremo di presenza e la speranza che Augusta continui a fare qualcosa di importante, di bello come quello che state facendo voi per fare del bene un po' a tutti. Grazie, ci vediamo!